Oggi 27 gennaio ricorre la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, commemorato con il giorno della memoria dal 2000 dallo Stato italiano. Tante le iniziative in Toscana, la principale al Mandela Forum di Firenze con il raduno di 7000 studenti provenienti da tutta la regione per il meeting che si tiene ogni due anni. La storia della deportazione anche in Toscana la rividiamo in questa scheda. Il 9 di novembre del 1943 a Firenze quasi 300 ebrei furono ammassati nei vagoni merci e trasportati nel campo di sterminio di Auschwitz. Arrivarono il 14 di novembre, 193 furono immediatamente uccisi nelle camere a gas. C'erano otto bambini nati dopo il 1930, 30 anziani nati prima del 1884. La più giovane era Lia Vitale di pochi mesi, la più anziana fanni tedesco ed aveva 93 anni. Purtroppo ci sono stati anche italiani che hanno collaborato attivamente a cercare gli ebrei, a strapparli dalle loro case, dai luoghi di preghiera, dall'ospizio israelitio che era nel viale, oggi chiamato viale Amendola, dove persone da 80-90 anni furono trasportate via brutalmente. A Firenze, prima della seconda guerra mondiale, gli ebrei erano oltre 2.500, dopo il conflitto rimasero in meno di 1.200. Fino al giugno del 1944 i deportati furono almeno 500. Ma la caccia agli ebrei fu sistematica in tutta la Toscana ed in particolare a Livorno, dove era presente una comunità numerosa, ad Arezzo, Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, per una totale di 675 persone, che furono inviate nei campi di sterminio non solo di Auschwitz, ma anche di Mauthausen e Treblinka. Due gli epicentri di raccolta e partenza dai treni della morte. Il primo appunto alla stazione di Santa Maria Novella, l'altro fra Lucca e Pistoia, dove era presente un'alta concentrazione di ebrei sfollati dalla costa e anche stranieri. Il padre di Moreno Cipriani era in quel convoglio della morte e non tornò più a Firenze. Lui mi vede e io lo dico no, quando montava sul camion mi fece il saluto così con la mano, è l'ultima volta che l'ho visto. La maggioranza comunque, e per fortuna, riuscì a salvarsi vivendo in clandestinità ed adottando le più diverse strategie di sopravvivenza.